Questo spazio è un luogo che mi contiene e che io contengo, determina tutti i momenti, i passaggi, i pensieri e poi determina il lavoro. Questo cambia spesso e volentieri anche il mio umore. Questa osmosi con lo studio, con le pareti e con le cose che ci sono non è da poco. Credo che lo sia per tutti gli artisti che hanno uno spazio proprio che viene a costruirsi attorno a te. È fondamentale. Cosa succede fisicamente qui e nella tua testa quando un progetto nasce, incomincia a trovare il suo spazio e a crescere? Lo spazio è diviso anche per ambiti. Questo vezzo di avere le cose in armonia perché mi devono dire, mi devono comunicare. Studio, studio è la parola grossa, però comunque entro un po' più nel merito, scambio molte parole al telefono con chi collabora con me, scopro cose nuove e c'è proprio uno spazio dove io faccio questo e non dipingo. Disegno, acquarello, pasticcio, butto via, ricostruisco, incollo, tolgo, metto, immagino, immagino soprattutto, immagino tantissimo. Poi c'è il luogo dove dipingo, poi c'è il luogo dove preparo, poi c'è il luogo della scultura, c'è il luogo delle chiacchiere. È diviso proprio in questi termini. Ecco che cosa succede. Succede che questi spazi sono stati costruiti perché mi parlino. Sto preparando con la Fondazione Pascoli questa mostra sul Pascoli e ho i libri delle poesie di Pascoli tutti impilati di mano perché quelle mi devono raccontare, io ogni volta li devo prendere, li voglio prendere, li sfoglio, poi diventano dei disegni. Ecco, questo vezzo mi serve. È così che nascono poi alla fine i progetti. Mi è sempre piaciuto di avere delle persone con cui uno si confronta, elabora, eccetera, anche per una chiacchiera qui vengono, poi nascono le idee, poi ci sono i galleristi che vengono e io ho cercato di relegarlo in alcune ore e soprattutto i primi due, tre giorni della settimana e poi soprattutto da metà settimana in poi fino alla domenica notte, insomma, qui non c'è nessuno ma soprattutto io dalle cinque del pomeriggio in poi, un telefono, cose, tutto si spegne e sono le ore migliori. Mediamente qua dentro ci sto 12 ore, perciò una parte dedicata all'organizzazione, eccetera, è quella che poi diventa più creativa per me, che è quella serale, notturna, la pittura. La vocazione alla pittura è la vocazione alla solitudine. Io dico più purtroppo perché la vita di relazione è stata sempre presente in questi 57 anni. Una condizione come questa complica trovare diplomaticamente una soluzione che permette a entrambi di accettare certe condizioni. Io non la chiamo mai lavoro, questa è la mia vita, lo so che può essere retorico. Sai, quando uno dice lavoro, poi a un certo punto dice, io però alle cinque ho finito e io invece se penso che è alle cinque ho finito mi viene male, no? Cioè, ma non è eroismo, è che proprio è così, cioè non ci posso fare molto. Cioè, è così. Cioè, ma non è eroismo, è così, cioè non ci posso fare molto.